Valtellina, terra di donatori, di sangue, organi, tessuti. La recente assemblea regionale dell'Avis a Sondrio, così come il convegno promosso da SST a Sondalo su donazioni e trapianti, l'attività della Tieste per la diffusione della cultura della donazione e l'impegno delle associazioni di volontariato nella scuola e nella società, fotografano nel territorio della provincia di Sondrio una realtà sensibile a queste tematiche. I numeri lo confermano. Nel 2017, presso le strutture sanitarie di SST Valtellina e Altolario, sono state raccolte 11.000 unità di sangue e 4.000 di plasma. I donatori sono oltre 8.000. Il 57% del sangue raccolto viene destinato a soddisfare le esigenze dei nostri pazienti. Una significativa eccedenza di emocomponenti dalla provincia di Sondrio prende la via di altri ospedali, nonché dei centri trapianti della Lombardia che hanno grande fabbisogno. Il SIMT, Servizio Trasfusionale Aziendale, seleziona anche donatori di midollo osseo ed ha allo stato attuale 1.500 donatori attivi iscritti. 12 lo scorso anno le donazioni di cellule staminali emopoietiche effettuate. Presso gli ospedali di Sondrio e Chiavenna poi si raccoglie anche il sangue da cordone ombelicale, indispensabile nella cura dei bimbi affetti da malattia onco-ematologica. Dal 2010, in forma ASST Valtlario, la cui attività di coordinamento trapianti fa capo alla dottoressa Elisabetta Dissette, è possibile donare anche la testa di femore da parte di persone sottoposte a intervento per protesi dell'anca. Da oltre 20 anni, inoltre, viene svolta l'attività di prelievo cornee, avviata a suo tempo a Sondalo, mentre dal 1992 è possibile la donazione multiorgano a cuore battente in persona di cui è dichiarata la morte encefalica. In ASST Valtlario si effettuano mediamente 5 donazioni multiorgano all'anno. La media degli organi donati per anno è di 16. Nel 2018, allo stato attuale, 2 i donatori multiorgano. Eloquenti i dati relativi all'attività di donazione e prelievo in ASST dal 1992 al 2017 presso il centro di Sondalo. In 25 anni, 51 i prelievi di cuore, 224 i reni, 106 i fegati, 29 i pancreas, 9 i polmoni. Nello stesso periodo sono stati 100 i pazienti di Valtellina e Valchiavenna trapiantati di rene, di cui 82 viventi. Attualmente i pazienti in lista d'attesa per trapianto di rene in ASST sono 19. Una scelta in comune, l'Aido provinciale ricorda che sono saliti a 53 su 77, l'85% della popolazione provinciale, i comuni che aderiscono alla raccolta del consenso alla donazione di organi in occasione del rilascio o rinnovo della carta d'identità. Grazie.